Ci aspettano traguardi importanti con una consapevolezza maggiore e con una maggiore responsabilità perché io tre anni e mezzo fa sono stato nominato direttamente dalla direzione nazionale questa volta invece c'è una scelta che è stata data ai tesserati, agli iscritti e quindi questo è anche un modo per responsabilizzare ulteriormente la nostra classe dirigente sia il coordinatore provinciale sia quelli che saranno poi i membri del coordinamento questo ci porta ad essere ancora più responsabili nell'intercettare quelle che sono le esigenze dei cittadini soprattutto nella città capoluogo in vista di quello che diceva lei delle prossime competizioni elettorali che saranno intanto le elezioni provinciali di secondo livello e poi inizieremo subito dopo a lavorare per le elezioni comunali di Crotone ma anche per gli altri 11 comuni della provincia di Crotone in cui si voterà perché penso che adesso Fratelli d'Italia potrà avere la possibilità di esprimere in ogni comune il proprio sindaco noi siamo sempre stati un partito che è aperto al confronto e non c'è momento migliore di un confronto politico che è un momento congressuale forse qualcuno ha ritenuto che c'è una certa atipicità nel celebrare i congressi in questo momento noi riteniamo che un partito deve avere una propria vita e una vita di partito è basata proprio sul confronto tra gli iscritti e l'individuazione anche di quelle che sono le figure apicali nel partito a livello provinciale per affrontare tutte le sfide che la politica è chiamata ad individuare